Aumentano i positivi, si contano tre decessi, ma intanto restano stabili, anzi in diminuzione gli ingressi in ospedale. Questo è il quadro che racconta dell'emergenza Covid nelle ultime 24 ore in città e in provincia. Sono 542 i pazienti positivi registrati in tutta la provincia nelle ultime 24 ore, si contano ancora tre decessi. Sono 144 i positivi di Caltanissetta, 175 quelli di Gele, poi gli altri sono suddivisi per i paesi della provincia, non c'è nessun paese che è Covid free al momento. Per ciò che riguarda i ricoveri sono soltanto 40 i positivi ricoverati in malattie infettive, 6 in meno rispetto all'inizio della settimana scorsa, mentre c'è un paziente positivo ricoverato in terapia intensiva. Aumenta il numero dei positivi in quarantena domiciliare, 4730 in tutta la provincia e 1238 a Caltanissetta, i ricoverati sono 10. Mentre invece per ciò che riguarda la città del Golfo Gela, dove i numeri stanno continuando e ricominciando a lievitare, 1.598 i positivi in quarantena domiciliare e 13 i positivi ricoverati in malattie infettive. Pare che la curva durante la settimana debba aumentare raggiungendo probabilmente dalle previsioni il picco massimo a fine settimana.